Un brano nei Vangeli che a me è stato sempre molto molto prezioso è quell'ultimo colloquio tra Pietro e Gesù un brano che ci aiuta tutti a riflettere su qual è il livello del nostro amore per Gesù qual è il nostro impegno facciamo presto a dire io credo in Gesù o io voglio seguire Gesù però dopo bisogna vedere i fatti della vita come viviamo è più importante capire come veniamo fuori dei periodi di difficoltà che passiamo tutti momenti di tristezza momenti di tristezza momenti di fallimento momento in cui sbagliamo e abbiamo un bellissimo esempio di questo nella vita dell'Apostolo Pietro e vorrei leggere ho scritto da 15 a 19 ma sarebbe meglio avere tutto un contorno qui per capire meglio quindi comincio nel capitolo 21 del Vangelo di Giovanni voglio cominciare in versetto 2 Simon Pietro Simon Pietro Tommaso detto Didimo Nataniele di Cane di Galilea i figli di Zebedeo e i due altri dei suoi discepoli erano insieme Simon Pietro disse loro varo a pescare a pescare essi gli dissero veniamo anche noi con te uscirono e salivano sulla barca e quella notte non presero nulla quando già era mattina Gesù si presentò sulla riva i discepoli però non sapevano che era Gesù allora Gesù disse loro figlioli avete del pesce? gli risposero no ed egli disse loro gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete essi dunque la gettarono e non potevano più tirarlo su per il gran numero di pesci allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro è il Signore Simon Pietro udito che era il Signore si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti dalla terra circa 200 cubiti trascinando le rette con i pesci appena scesero a terra videro là della barca braccia e del pesce messo vissù e del pane Gesù disse loro portate qua dei pesci che avete preso ora Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci e benché ce ne fossero tanti la rete non si strappò Gesù disse loro venite a far colazione e nessuno dei discepoli osava chiedergli chi sei sapendo che era il Signore Gesù venne prese il pane e lo diede loro e così anche il pesce questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti quando avrebbero fatto colazione Gesù disse a Simon Pietro Simone di Giovanni mi ami più di questi e gli rispose oh sì Signore tu sai che ti voglio bene Gesù gli disse pasci i miei agnelli gli disse di nuovo una seconda volta Simone di Giovanni mi ami e gli rispose sì Signore tu sai che ti voglio bene Gesù gli disse pastore le mie pecore gli disse la terza volta Simone di Giovanni mi vuoi bene Pietro fu rattristrato che egli avesse detto la terza volta mi vuoi bene e gli rispose Signore tu sai ogni cosa tu conosci che ti voglio bene Gesù gli disse pasci le mie pecore in verità in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio e dopo aver parlato così gli disse seguimi Padre ti chiedo in questi momenti insieme che lo Spirito tuo possa guidarci a comprendere dalla vita di Pietro e Gesù come deve essere anche il nostro attecimento nei tuoi riguardi nel nome di Gesù preghiamo Amen possiamo tutti dire di amare Gesù però quando lo diciamo dobbiamo ricordare che c'è anche l'esempio di un'altra persona che aveva detto di avere un grande amore un amore supremo per Gesù e vediamo diverse volte nei Vangeli in Matteo 19 per esempio vengono a Gesù e dicono Gesù noi noi abbiamo lasciato tutto per seguirti cosa possiamo noi aspettare di incontrocambio cosa possiamo noi aspettare da te come premio e così vediamo qualche volta nel vanto del nostro cuore diciamo Signore io ti amo io ho fatto tanto per te mi sa vorrei sapere come mi premere alla fine sarebbe bello saperlo adesso perché ho fatto tanto per te quindi nel nostro vanto certe volte dice Signore io ti amo tanto ho fatto tanto per te cosa mi dai cosa mi dai in Matteo 26 invece siamo arrivando verso la fine della vita terreni di Gesù dopo tre anni e mezzo che Gesù stava in mezzo con i suoi discepoli c'è Pietro di nuovo che vanta di questo suo grande amore per Gesù Matteo 26 33 dice Pietro Pietro rispondendo gli disse quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta non lo sarei mai per me Gesù gli disse in verità ti dico che questa stessa prima che Gallo canti tu mi rinegherai tre volte e Pietro a lui quando anche dovessi morire con te non ti rinegherò e lo stesso dissero pure tutti i discepoli nella propria sicurezza di se stessi i discepoli e Pietro per primo hanno detto Signore quando anche tu fossi di scandalo per tutti gli altri di me ci puoi contare e mi chiedo quante volte noi anche nella chiesa guardiamo in giro vediamo le persone che magari vengono meno ai loro impegni qualcuno se ne va qualcuno rinuncia proprio la propria fede in Cristo e guardiamo queste persone e diciamo beh io questo non farei mai Signore tu sai che io fino alla morte sarò fedele così diceva Pietro quando anche tutti gli altri dovessero abbandonati ci puoi contare su di me Giovanni 13 riprendere una situazione simile Giovanni 13 36 dove Gesù aveva parlato appunto della sua futura morte stavano qui alla cena di Pasqua quella che noi chiamiamo l'ultima cena e a un certo momento dopo Gesù Gesù aveva parlato della morte aveva parlato delle necessità di amore dimostrato tra loro Simon Pietro gli domandò Signore dove vai tu? Gesù rispose dove varo io? Non puoi seguirmi per ora ma mi seguirai più tardi Pietro gli disse Signore perché non posso sicuriti ora darò la mia vita per te Gesù gli spose darai la tua vita per me in verità in verità ti dico che il gallo non canterà che tu non mi abbia rinnegato tre volte qui Gesù dice ma Pietro tu darai la tua vita per me e poi invece era vero Gesù sapeva che Pietro avrebbe dato la sua vita per Gesù ma non in quel momento e qui troviamo Pietro e chiediamo ma c'è sempre Pietro c'è sempre qualcosa da dire nel bene e nel male un esempio per tutti noi che è sempre pronto ad agire sempre pronto a fare ma certe volte Pietro faceva come noi metteva la bocca in moto prima di aver messo in moto il cervello e certe volte dice delle cose proprio nella sua ignoranza come come poteva dire a Gesù ma dove vai Gesù aveva detto che doveva morire ma è come pensava Pietro di poter avere la forza di stare accanto a lui di morire accanto a lui che non ce l'aveva infatti la realtà non ha avuto questa forza in quel momento nella sua ignoranza dice io darò la mia vita per te non sapeva che tra qualche anno l'avrebbe fatto crocifisso con la testa in giù per Gesù anche nel proprio orgoglio Pietro parlava così Marco 14 27 Gesù disse loro voi tutti sarete scandalizzati perché è scritto io percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse ma dopo che sarò risuscitato voi vi precederò in Galilea allora Pietro gli disse quando anche tutti fossero scandalizzati io però non lo sarò Gesù gli disse in verità vi dico che tu oggi in questa stessa notte prima che il gallo abbia cantato due volte mi rinegherai tre volte ma egli diceva più fermamente ancora anche se dovessi morire con te non ti rinegherò lo stesso dicevano pure tutti gli altri quindi anche gli altri erano colpevoli ma questa insistenza quando Gesù sta attento a quello che dice che non è vero Pietro chiede no no è vero è insistito io ti sarò sempre sempre fedele non non dobbiamo mai usare queste parole mai sempre come faceva Pietro perché non sappiamo non sappiamo e Pietro nella sua nel suo orgoglio dice ma io signore io sarò sempre fedele a te ma che dici Luca 22 ci dà un altro modo di vedere questa situazione Luca 22 versetto 31 Simon Simone ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vagli il grano ma io pregherò per te affinché la tua fede non venga meno e tu quando sarai convertito fortifica i tuoi fratelli Pietro gli disse signore io sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte e Gesù Pietro ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia rinnegato tre volte di conoscermi e quindi vediamo Luca che quando si si ricorda e racconta questo episodio parla del fatto che questa caduta di Pietro fu anche risultato dell'inganno di Satana cosa vuol fare Satana nella nostra vita vuol farci sentire forti che ce la facciamo magari senza il Signore nella nostra forza possiamo dire io farò così io sarò così e nel nostro orgoglio poi lui ci può dare una spinta nella direzione sbagliata del proprio inganno dice Pietro io sono pronto ad andare con te in prigione non sembrava tanto nel giardino lui che ha tirato fuori la spada ha cominciato a difendere Gesù e se stesso quindi c'è chi ha già detto questa frase di avere un amore supremo per Gesù magari più degli altri o mi impieghi più degli altri sono più fedeli degli altri sono sempre là faccio io faccio io anche Pietro diceva così però sappiamo che fine ha fatto in questo momento però allo stesso tempo c'è chi sa se abbiamo l'amore supremo per Gesù lui stesso lui legge i nostri cuori lui sa come siamo e più che Pietro insisteva nella sua ignoranza nel suo orgoglio nel suo inganno da parte di Satana più che Pietro insisteva Gesù diceva Pietro non sarà così ti dico e poi questa conversazione dopo colazione pensiamo veniamo un attimo la situazione Pietro era stato chiamato da Gesù a diventare pescatore di uomini dopo il suo fallimento dopo la sua vergogna di quello che aveva fatto cosa dice boh io vado a pescare pesce lascio stare la chiamata di Dio nella mia vita e quanti di noi arrivando a un momento di scoraggiamento siamo pronti a buttare via quella chiamata di Dio nella nostra vita Pietro era così io vado a pescare ma purtroppo gli errori gli sbagli le scelte sbagliate che noi facciamo non hanno effetto solamente su di noi hanno effetto anche sugli altri e cosa hanno detto gli altri che erano stati chiamati di Gesù di essere pescatore di uomini anche gli altri hanno detto beh vediamo anche noi così tutti quanti con la guida di Pietro hanno lasciato quell'impegno che Gesù aveva dato allora di essere pescatore di uomini per tornare a pescare poi mi piace questo momento quando lui lascia tutti si butta in mare per arrivare prima Gesù non osava ormai nel suo fallimento nella sua inferialità non osava cercare di camminare sull'acqua come l'altra volta assolutamente era un fallito un fallito si è buttato nel mare cercando di arrivare lì a nuoto per vedere Gesù gli altri tutti quanti con grande sforzo hanno tirato su i pesci dal mare per mettere la rete nella barca Pietro arriva prima Gesù arrivano loro e poi Gesù dice prendete i pesci Pietro da solo va alla barca e tira fuori questi pesci e li porta arriva pensate quando tutti quanti avevano faticato per farlo lui dopo l'ha fatto da solo e Gesù prepara loro questa colazione a base di pesce arrostito se andano in Israele mangiano anche il pesce crudo la prima colazione io no io no però così fanno dopo colazione Gesù prende la parte Pietro non l'ha fatto davanti a tutti credo perché Gesù sta parlando con Pietro al suo cuore dice Pietro tu mi ami più di questi questo però amore tu mi ami con un amore che si sacrifica agape tu mi ami con un amore che si sacrifica la stessa parola che dice Dio ha così amato il mondo che ha dato suo figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna Dio ci ha amato con un amore che si sacrifica e Gesù dice ma Pietro tu mi ami con un amore che si sacrifica anzi tu mi ami con questo amore più di questi e ci sono due pensieri qui io ho sempre pensato che parlava a Pietro dicendo ma tu mi ami più di questi altri discepoli perché effettivamente Pietro aveva detto io ti amo più di tutti anche se loro sbagliano anche se loro ti abbandonano io no aveva detto così Pietro quindi può darsi che Gesù diceva ma tu mi ami più di questi altri discepoli ma ripensando ristudiando e ho letto un bellissimo articolo su questo forse Gesù diceva Pietro ma tu mi ami più di questi pesci perché Gesù aveva chiamato Pietro ad essere il pescatore di uomini e invece Pietro aveva abbandonato la sua chiamata per tornare a pescare i pesci è così Gesù ma Pietro è vero che tu mi ami con un amore che si sacrifica un amore che è pronto di abbandonare il tuo mestiere il tuo lavoro la tua sicurezza per diventare pescatore di uomini Pietro tu mi ami con un amore che si sacrifica più di questi e Pietro risponde sì signore tu sai che ti voglio bene Pietro era depresso era stato un fallimento aveva abbandonato Gesù nel momento di bisogno come poteva Pietro dire a Gesù ti amo con un amore che si sacrifica non poteva dirlo perché aveva già dimostrato che non amava Gesù con un amore che si sacrifica e quindi ha detto a Gesù sì ti voglio bene come un amico e questa parola era un'altra parola greca per amore fileo che vuol dire un amore in famiglia un amore tra amici gente che si vuole molto bene però non forse all'avello di sacrificarsi l'uno per l'altro signore tu sai che ti voglio bene come un amico Gesù dice pace i miei agnelli Pietro anche amandomi così tu hai preso l'impegno di essere pescatore di uomini devi passare i miei agnelli devi lavorare per me e poi chiede una seconda volta Simon di Giovanni mi ami anche questa volta mi ami con un amore che si sacrifica non hai detto più più degli altri perché si sapeva che non era vero ma tu mi ami con un amore che si sacrifica e Pietro un po' offeso dice ma signore tu sai che ti voglio bene tu sai che non posso dire quella parola tu ho fallito tu ho abbandonato ma ti voglio bene tu sai che ti voglio bene come un amico questa parola di nuovo fileo ti voglio bene come un amico e Gesù risponde pastore dei miei pecore devi impegnarti in quel lavoro che ti ho chiamato di fare di portare la parola di Dio alle mie pecore di servirmi di essere pescatore di uomini pastore dei miei pecore e poi Gesù disse la terza volta Simone di Giovanni è vero che mi vuoi bene come un amico Pietro aveva detto già due volte che non poteva amare Gesù con un umore che si sacrifica perché era un fallito aveva sbagliato a quel punto Gesù dice ma se non mi ami con un umore che si sacrifica sarà vero che mi vuoi bene come un amico e a quel punto era come un pugnale nel cuore di Pietro perché vedeva tutto il suo fallimento vedeva tutte le volte che lui aveva rinnegato Gesù è stato lui a rispondere con grande tristezza signore tu sai ogni cosa tu sai come ti ho fallito sai come sto adesso come sto male nel mio fallimento tu sai ogni cosa tu conosci per esperienza tu vedi il mio cuore che non ti posso dire che ti amo con un umore che si sacrifica dopo quello che ho fatto ma tu conosci il mio cuore sai che ti voglio bene come un amico Gesù gli disse pasci le mie pecore se tu mi vuoi bene così almeno Pietro devi tornare a fare quello che tu facevi per me quello che ti avevo chiamato a fare essere pescatore di uomini una cosa interessante non andremo lì a guardare ma il racconto della prima chiamata dei discepoli di Gesù è preceduto da una situazione quasi identica stavano in barca non avevano pescato niente Gesù l'ha detto proprio dall'altra parte e hanno pescato era la stessa situazione un déjà vu che Gesù ha creato in questo secondo momento per richiamare Pietro al suo servizio mi vuoi bene come un amico pace le mie pecore perché Gesù chiede ai suoi servitori amore e non impegno perché ci può essere impegno senza amore in Luca 16 13 dice nessun domestico può servire due padroni perché o odierà l'uno e amerà l'altro o avrà riguardo per l'uno e disprezzo dall'altro e in quel momento Pietro era tornato all'altro padrone era tornato a pescare e Gesù diceva tu se mi ami non farei così non farei così infine c'è chissà quando avremo un amore supremo per Gesù Gesù parlando con Pietro dice è vero tu da giovane ti comportavi come volevi andavi dove volevi quindi Gesù conosce il nostro passato Gesù sa da dove ci ha tirato fuori conosco il tuo passato però Gesù dice a Pietro conosco anche il tuo futuro Pietro non sapeva non aveva l'idea di avere la forza o poteva avere la forza un giorno di fare proprio quello che aveva detto prima Gesù poi è fallito dice quando sarai vecchio e questa è una profezia che Gesù fa per quanto riguarda la morte di Pietro in verità in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio e dopo aveva parlato così gli disse seguimi Giovanni ha scritto questo Vangelo forse anche trent'anni dopo il martirio di Pietro così Giovanni mentre scriveva sapeva bene come era andata a fine la cosa Gesù aveva detto a Pietro io conosco il tuo passato conosco il tuo futuro un giorno tu sarai veramente pronto a morire per me lo so intanto però conosco il tuo impegno come tu ti devi comportare oggi non ti devi confondere pensando del passato dei tuoi fallimenti le volte che sei venuto o meno non ti devi confondere col futuro pensando chiedendo come sarà quando io so come morirai tu non ti devi confondere perché io so sappiamo che quando nasciamo Dio ha scritto nel suo libro tutti i nostri giorni Dio dice io so come andrà a finire però non ti devi interessare questo oggi io conosco l'impegno che tu devi avere per me adesso dice Gesù seguimi seguimi sii fedele a quella chiamata che io ho fatto nella tua vita oggi e il Signore dice la stessa cosa a noi c'è qualcuno qui che non ha mai fallito nei confronti di Dio siamo tutti falliti c'è qualcuno qui che conosce Gesù che non è sicuro del suo futuro con Gesù siamo sicuri non sappiamo quando forse è meglio che non sappiamo quando ma sappiamo che un giorno saremo col Signore ci dà grande sicurezza ma non possiamo vivere né soffrendo per il passato gli errori gli sbagli i peccati se abbiamo chiesto il perdone di Gesù e non possiamo nemmeno vivere nella paura del futuro come sarà dobbiamo impegnarsi oggi a seguire Gesù essere fedele oggi a quello che Lui ci guida a fare seguimi oggi e così Gesù chiede a noi questo in conclusione vorrei chiedervi qualche domanda sulla base di quanto abbiamo visto oggi non è una domanda che devi dire alla moglie come stai tu o la moglie al marito che pensi no a tu per tu con Gesù tu ami Gesù più di te stesso ami Gesù più di te stesso la tua vita è più importante i tuoi progetti sono più importanti i tuoi desideri sono più importanti di quelli di Gesù per te per la tua vita amiamo Gesù più della lode dell'apprezzamento e dell'approvazione degli altri viviamo per quello che dicono gli altri e non per quello che dice Dio il nostro amore per lui è più grande della nostra paura di come ci giudicheranno o cosa diranno di noi certe volte viviamo perché qualcuno ci possa dare una pacca sulle spalle bravo questo quando sei bravo noi dobbiamo vivere pensando di Gesù che un giorno potrà dirci ben fatto mio servitore fedele amiamo Gesù più dell'apprezzamento delle persone quando le persone prendono degli impegni anche qui nella chiesa e dopo un mese due mesi sei mesi forse un anno dicono alla fine ma non mi piace non è la mia cosa nessuno mi ha mai detto grazie faccio tutto e nessuno mi dice grazie vuol dire che non hai fatto per Gesù non hai fatto per Gesù facciamo le nostre cose per l'approvazione delle persone vogliamo che loro dicano bravo ma quanto sei bravo facciamo per questo se facciamo per questo non stiamo facendo queste cose per l'amore di Gesù amiamo Gesù più delle nostre aspettative i nostri progetti qualche noi vogliamo fare nel futuro facciamo dei progetti e poi diciamo Signore benedici i miei progetti o invece chiediamo a Dio nella sua parola di guidarci nei progetti che noi dobbiamo avere per la nostra vita per poi essere sicuri che lui ci benedirà io penso ai giovani di oggi se dovessero fare dei progetti futuri basandosi sul lavoro basandosi sulla salute basandosi sulla famiglia basandosi su tutto quello che c'è intorno c'è da prendere un bel esaurimento ma quando facciamo i nostri progetti per il futuro guardando a Gesù guardando la sua parola chiedendo a lui una guida nella nostra vita mettendo lui prima di ogni altra cosa dice Signore i nostri progetti avranno una buona fine una buona fine amiamo Gesù più delle nostre aspettative amiamo Gesù più di aver sempre ragione noi lottiamo con questo io con questo voglio avere ragione io ma certe volte è meglio non avere ragione certe volte è meglio non dire te l'ho detto io per amore di Gesù per amore della fratellanza per amore della chiesa sua amiamo Gesù più della nostra sicurezza io vorrei fare qualcosa per Dio ma io ho tutte queste cose che devo fare devo lavorare devo fare e poi devo pensare al futuro non ho tempo di pensare a Dio allora non amiamo Gesù più di queste cose mentre leggevo questo brano il Signore ha aiutato a riflettere molto sulle cose che voglio io se sono pronto a dargli a Gesù dicendo se vuoi tu Signore se vuoi tu perché quella frase mi ami con un umore che si sacrifica più di questi è una frase che ci deve tutti toccare profondamente io prego che la mia che la tua risposta a questa domanda di Gesù sarà sì io ti amo con un amore che si sacrifica sono pronto a seguirti ad ubbidirti anche se mi costa anche se mi costa lavoro mi costa all'università mi costa tra gli amici quando io dico no io non faccio queste cose io seguo Gesù io credo in Gesù anche se mi costa io sono pronto Signore Gesù a seguirti e poi possiamo andare avanti in attesa del futuro viviamo nel presente servendo il Signore lasciando con lui tutti i risultati quello che lui vuole fare in noi tramite noi anche per gli altri per la sua gloria prego che questo sia il tuo attecimento oggi preghiamo padre chiediamo perdono per le volte quando abbiamo fallito siamo venuti in meno abbiamo mancato di fede nei tuoi riguardi abbiamo mancato di impegno abbiamo pensato prima di noi stessi prima della nostra famiglia prima del nostro lavoro prima della nostra salute prima dei nostri progetti abbiamo pensato di queste cose anziché amarti con un amore che si sacrificava chiedo che tu ci puoi dare la forza di rispondere nel modo giusto a questa tua chiamata essere pronti veramente a servirti come desideri tu a servirti nel modo che tu hai scelto per noi nel nome di Gesù preghiamo Amen